eccolo bene male che stai di qui eh certo anche tu che stai bene anche tu stiamo un po influenzati eh però cose risolvibili vero eh quando si risolvono le cose va sempre bene va sempre bene o bene o male andiamo avanti va bene mamma mia il oh con le mani sto fermo vedono com'è mamma mia guardati qui che è successo ma ne poteva essere oh sta buono là ma che è sto di qui o no questo che non ti piace ti poteva far vedere ma sta zitto sta madonna mia sta di qui sta macchina che mi piaceva tanto vabbè ma che è una macchina macchina ti dispiace ma vabbè che è è fortuna che stai bene però quello è importante dai anche sto natale che poteva succedere vabbè dai sta tranquilla che sto di qui per il mese di novembre dicembre per noi altri no no stiamo tutti bene carini no piagli eh guarda quanto è bello eh si è bello il cazzo guarda ah fermati Federino guarda madonna mia senti che barbecchio si no la barba non ce l'ho quella tagliere vabbè dai domani tocca fare anche il calendario dell'avvento eh eh tocca ricominciare la nostra serie bella e divertente perché ste facce io le voglio vedere ok si si